Grazie Presidente, innanzitutto voglio ringraziare per questo parere del supporto avuto dal segretariato, dal mio esperto, ma anche da tutte le autorità e le istituzioni, a partire dalla Commissione, dalla Presidenza bulgara e austriaca e anche dagli ambasciatori dei Paesi candidati, potenziali candidati e dalle associazioni e organizzazioni di cooperazione regionale e del sistema delle autonomie locali e regionali Nala, Scialda e dell'iniziativa centro-europea. Dico questo perché il parere della nostra prima stesura ha avuto ovviamente una serie di modifiche continue legate alla continua evoluzione della situazione politica e delle situazioni e delle decisioni che sono state adottate nel frattempo, in principio le conclusioni del Consiglio europeo del 26 giugno che hanno indicato una via possibile di inizio ai negoziati per l'adesione anche dell'Albania e dell'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia per il prossimo anno. Lo storico accordo raggiunto dall'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia con la Grecia sul nome anche se poi il referendum non ha avuto un esito positivo ma c'è l'intenzione in ambito parlamentare di procedere su questo accordo a parte dell'autorità macedoni. Le elezioni in Turchia con la successiva sospensione dello stato di emergenza anche se la situazione per la Turchia è tutt'altro che normalizzata. Le elezioni in Bosnia e Herzegovina che non hanno poi dato un esito diciamo molto favorevole rispetto ai processi di democratizzazione e di pacificazione di quel paese. La bozza quindi è stata ulteriormente discussa nelle sede Civex nel settembre scorso, abbiamo avuto un dibattito anche franco con alcuni colleghi, abbiamo potuto accogliere quasi tutti gli emendamenti proposti. In tema sintesi nel mio parere sottolineo come il processo di allargamento deve rimanere una priorità dell'Unione Europea nello stato di diritto, la giustizia e i diritti fondamentali rappresentano comunque parti fondamentali di tale processo. Il pacchetto allargamento 2019 della Commissione è in gran parte condivisibile ma ancora una volta nel parere si trascura il ruolo e l'importanza delle autorità locali e regionali che invece abbiamo sottolineato e ripreso più volte e qui ringrazio anche i colleghi che partecipano ai gruppi di contatto, ai working group tra Unione Europea e Paesi candidati e potenziali candidati in quanto abbiamo svolto dei dibattiti importanti in tutte le riunioni che si sono svolte sottolineando appunto il ruolo delle autorità locali e regionali nel processo di allargamento perché rappresentano ovviamente le popolazioni e siamo convinti che l'allargamento debba essere un patrimonio innanzitutto delle comunità, dei cittadini, cioè il sentire comune europeo deve essere non un esercizio delle istituzioni nazionali ma deve essere una condivisione, una forte partecipazione dal basso dei cittadini e una opportunità, deve essere colta come una opportunità. Chiediamo alla Commissione di rafforzare gli strumenti di cooperazione e di collaborazione, strumenti di collaborazione diretta, renderli potenzialmente utilizzabili anche in forma diretta tra le autorità locali e regionali, soprattutto per quanto riguarda TAI, XTwinning, Sigma che fonda la propria consistenza nella partecipazione degli enti locali, rilanciare il programma Local Authority Facility, il Regional Training Program proprio per dare opportunità nello scambio delle best practices della costruzione di un'autentica competenza, capacità, conoscenza e condivisione europea a livello di pubblica amministrazione e a livello di autorità di governance economica e locale. Pensiamo che ci sia ovviamente delle opportunità sul tema dell'allargamento, abbiamo rivolto anche l'apprezzamento per le azioni svolte nella regolazione dei flussi migratori, la Serbia, la Turchia, ovviamente con quelle che sono state le azioni che hanno svolto, ma sappiamo che è un'azione che dipende molto dalla competenza e dalla capacità delle autorità locali e regionali e vediamo nella collaborazione sui temi della cultura, della tutela comune di un patrimonio storico e culturale, importanti strumenti di aggregazione e di condivisione. Per quanto riguarda ovviamente punti puntuali pensiamo che per i Balcani occidentali ci siano punti di forza e di debolezza a livello nazionale, che il processo di allargamento che aveva segnato il passo e che è ripreso con decisione in questo anno possa rilanciare quello che è stato forse anche una sorta di pessimismo o anche di disaffezione dei cittadini dell'autorità verso la missione dell'Unione Europea, chiediamo che facendo riferimento alla Turchia che ovviamente quello che è sembrato, cioè un allontanamento della Turchia dalla decisione, dal processo di adesione dell'Unione Europea venga invertito, ci sia un imbocco convinto di questo processo. Ovviamente dopo l'elezione del Stato scorso sono state risolte le questioni relative allo stato di emergenza, ma l'approccio alla sicurezza interna incide ancora pesantemente sui processi di democrazia locale. L'ultimo commento riguardo la Serbia che ovviamente ha intrapreso al processo e ha anche svolto significativi miglioramenti rispetto alla condizione della Vojvodina e dei governi locali. Grazie. Grazie. Grazie.